Una settantina di interventi nei primi 45 giorni della campagna antincendio per i volontari della protezione civile Giuseppe Caruano di Vittoria. Il presidente del Corpo Ausiliare di Protezione Civile, Giovanni Buonvicino, traccia un primo bilancio delle attività eseguite nell'ambito della campagna antincendio 2013. Nel primo mese e mezzo infatti il personale volontario del Corpo Caruano ha dovuto far fronte a circa 70 interventi di spegnimento di incendi nel territorio di Acate, Vittoria e Comiso. Incendi che hanno minacciato sia le culture che le abitazioni nonché la stessa flore e fauna del territorio. L'associazione sotto le direttive del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con altre associazioni sparse nel territorio e il Corpo Forestale, in un lavoro sinergico hanno garantito sicurezza e tempestività negli interventi. La squadra antincendio del gruppo Caruano continuerà a svolgere il servizio antincendio per tutto il mese di settembre, mettendo in disposizione i propri mezzi. Stazioneranno impostazioni di avvistamento strategiche disseminate in tutto il territorio circostante per garantire un perfetto avvistamento e una celerità negli interventi. Le operazioni di intervento del Corpo Ausiliare Caruano di Vittoria sono dirette dal Presidente Giovanni Bonvicino, che assicura il massimo impegno nelle operazioni di intervento.